Comunico il risultato della votazione, quinto scrutinio. Presenti 936, votanti 530, astenuti 406, maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea 505. Hanno ottenuto voti casellati 382, Mattarella 46, Di Matteo 38, Berlusconi 8, Cartabia 7, Tajani 7, Casini 6, Draghi 3, Belloni 2, Perren Joseph Cesar 2. Voti dispersi 9, schede bianche 11, schede nulle 9. Non essendo stata raggiunta ad alcuno la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, occorre procedere ad un sesto scrutinio che avrà luogo alle ore 17 di oggi. Essendo unica la seduta per le elezioni del Presidente della Repubblica, sospendo la stessa che riprenderà alle ore 17. La seduta è sospesa.